C'è il progetto definitivo del collegamento meccanico tra il terminal bus Lorenzo Natali del Capoluogo e Viale Rendina. È stato presentato a Palazzo dell'emiciclo e fa parte del progetto più ampio di riqualificazione urbanistica che ha interessato la villa e Palazzo dell'emiciclo. Il progetto è frutto dell'intesa tra il Consiglio regionale, il Comune e la Soprintendenza e prevede un sistema di ascensori che collegano la villa cittadina al terminal. Il Consiglio è la stazione appaltante, ci sono 2 milioni e 700 mila euro tra fondi cipe e fondo complementare del PNRR. Due gli ascensori e due le fermate, ci sarà anche un parco urbano a ridosso delle mura. I lavori partiranno entro giugno. Si immagina di realizzare un collegamento con un ascensore e un tunnel in una città millenaria e magnifica come l'Aquila superando le mura e collegando il centro storico al terminal. Insomma una cosa difficilissima e ciclopica però il cui abbiamo sempre creduto le nostre strutture sono state particolarmente capaci di trovare la sinergia sia col Comune che con la Soprintendenza. Quindi i cittadini dell'Aquila presto vedranno i lavori in corso di quest'opera per l'estate, partiranno e oggi presentiamo il progetto definitivo. Un progetto che nasce nel 2015 con un masterplan approvato che prevedeva oltre al lavoro alla villa anche il collegamento col megaparcheggio. A fine 2016 è stato fatto un primo finanziamento cipe. Il progetto era rimasto nei cassetti ma nel 2019 è stato rispolverato. L'opera definitiva è stata progettata da un raggruppamento temporaneo di imprese. La struttura di missione e l'USR hanno collaborato attivamente con Soprintendenza, Comune e Consiglio per realizzare un'opera non impattante sul patrimonio delle mura. L'opera renderà finalmente funzionale a pieno titolo il megaparcheggio del capoluogo con una passeggiata dolce di 70 metri che sarà valorizzata con il verde di un parco che sarà fruibile per famiglie anziani. Il tutto dovrebbe essere completato prima dell'estate 2023. Siamo in conferenza di servizio che si ultimerà in questi giorni, mi sembra, il 6-7 di maggio e quindi nei primi mesi di giugno, al massimo fine giugno, andremo in gara d'appalto. Oggi presentiamo questo progetto che finalmente renderà fruibile il megaparcheggio del termine di Colle Maggio. È molto importante perché poi si associa anche a un progetto di riqualificazione più vasta, villa, palazzo dell'emiciclo. Bene, oltre l'ascensore e quindi il collegamento meccanizzato avrà realizzato anche un parco urbano sotto le mura e quindi ci sarà una grande valorizzazione delle mura da Viale Rendina fino a Porta Tione e sarà uno spazio fruibile anche per i bambini, per le famiglie che potranno portare i loro familiari a vivere uno spazio che tante volte noi lo citiamo ma lo renderemo vivo.